In Svezia la leader del partito socialdemocratico Magdalena Andersson ha incassato la fiducia dal Parlamento diventando la prima donna premier nella storia del paese. Sentiamo Alessandra Bortoloni. Si è alzata, commossa, per ricevere gli applausi del Parlamento. Magdalena Andersson, 54 anni, ex ministro delle finanze, nonché presidente dei socialdemocratici, è il nuovo capo del governo svedese, la prima donna a guidare il Regno Nordico. Un secolo dopo il diritto di voto alle donne in Svezia, la Andersson succede a 33 uomini premier. Il suo predecessore, Stefan Lofven, logorato da sette anni al potere e da una crisi politica di inizio estate, ha dato le dimissioni a meno di un anno dalle legislative del 2022. Ex nuotatrice di alto livello, conosciuta per essere talmente diretta da essersi guadagnata il soprannome di bulldozer, la Andersson tuttavia si è assicurata in extremisi i sostegni necessari per arrivare al governo, soprattutto grazie ad un accordo dell'ultima ora con la sinistra, ma perde l'appoggio del partito centrista. Governerò lo stesso, ha detto la Svezia, citando un suo slogan, può fare meglio. Già note le sfide, mantenere un governo socialdemocratico fino alle prossime elezioni, ma i conservatori, alleati con l'estrema destra, daranno loro filo da torcere. Magdalena ha però le idee chiare, riprendere il controllo democratico e fare della Svezia il primo paese totally green. Grazie. 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 Grazie.